l'epidemia covid sull'antibiotico resistenza. Ci auguriamo di avere presto le informazioni che ci permettano di verificare queste che per ora sono prettamente ipotesi o esperienze in altre realtà. Per oggi quello che possiamo fare intanto è guardare come sono andate le prescrizioni di antibiotici e l'antibiotico resistenza nella nostra regione. Intanto continuiamo a osservare un calo generale nel consumo degli antibiotici a livello territoriale, anche se continua a costituire circa il 90% dell'utilizzo complessivo degli antibiotici. Cioè a livello territoriale nel 2019 sono stati prescritti 14,6 di DD per mille abitanti DIE e nei nostri ospedali 1,6 per mille abitanti DIE. Questo trend in calo per la regione toscana ci porta a dei livelli di consumo di antibiotici territoriali che sono inferiori a quelli europei, fonte e CDC, e anche appunto a quelli italiani, sempre fonte e CDC. Ci sono delle variabilità all'interno della nostra regione tra le varie ASL e in particolare anche tra le zone di residenza. In particolare abbiamo da zone dove si consumano 11,9 di DD per mille abitanti DIE a 18,9. Andando nello specifico poi delle classi ATC vediamo che c'è stata una diminuzione nel consumo dei chinoloni a livello territoriale, probabilmente anche in conseguenza della nota AIFA del 2019 che dava delle raccomandazioni sull'uso legato a dei problemi di sicurezza di questo farmaco. Inoltre quello che abbiamo visto è che la proporzione di prescrizione di amoxicillina verso l'amoxicillina clavulanato è aumentata, ovvero proporzionalmente viene prescritta più amoxicillina e meno amoxicillina clavulanato. Quindi questo era uno degli indicatori che monitoriamo appunto per la qualità della prescrizione degli antibiotici. Negli ospedali che cosa possiamo dire? Io qui ho riportato le DDD distribuite negli ospedali per 100 giornate di degenza. In Toscana siamo passati da un valore intorno a 110 DDD per 100 giornate di degenza a un valore che è intorno a 82. Questa riduzione si è osservata più o meno in tutte le aree vaste della nostra regione. permangono i pallini, i pallini sono degli ospedali, sono già referenziati nella cartina della Toscana. L'ampiezza del pallino è proporzionale alle DDD per 100 giornate di degenza. Quindi un pallino più ampio indica che in quell'ospedale sono distribuiti più antibiotici. La variabilità qui tra gli ospedali resta comunque abbastanza ampia. Andiamo da 35 a 135 DDD per 100 giornate di degenza. Ora io scorro rapidamente tutti i dati e poi alla fine vi faccio vedere il link a cui potete connettervi per vedere tutti questi dati nel dettaglio anche appunto del singolo ospedale, della singola classe di antibiotico. Cosa è successo in termini di classi di antibiotici prescritte consumate negli ospedali? La prima, la più comune, continuano ad essere le peniceline betalattamici. C'è stato anche negli ospedali una diminuzione dei chinoloni, come avevamo visto nel territorio, e un lieve aumento nella prescrizione e nel consumo dei macrolidi. Cosa vi vediamo? L'aumento nei macrolidi è un aumento leggero diciamo in tutte le aree vaste, anche se permangono grosse differenze all'interno delle aree vaste, quindi tra i singoli ospedali. Per quanto riguarda invece la diminuzione nelle prescrizioni dei chinoloni, anche qui più o meno in tutte le aree vaste, in tutti gli ospedali hanno visto una diminuzione, ma comunque permangono importanti differenze, c'è una grossa variabilità anche all'interno degli ospedali, quindi anche qui va osservato questo fenomeno. Per quanto riguarda le resistenze antibiotiche, come sono cambiate le resistenze antibiotiche nelle emoculture? Anche quest'anno abbiamo riprodotto un andamento delle resistenze che si sovrappone, ripercorre i dati che pubblica l'SIDC. Quindi questi sono gli isolati non ripetuti che abbiamo contato per il 2019 prendendo appunto i dati dai singoli laboratori di microbiologia attraverso appunto la rete collaborativa SMART, che è la sorveglianza microbiologica dell'antibiotico resistenza in Toscana. L'isolato, il microrganismo più diffuso nelle emoculture anche per il 2019 è stato l'escherichia coli. Quello che abbiamo visto è stato che essenzialmente tra il 2018 e il 2019 c'è stata una lieve diminuzione da 7600 a 7400 isolati, ma insomma sostanzialmente non ci sono state grandi variazioni, c'è stata una diminuzione negli isolamenti delle candide e una lieve diminuzione negli acinetobacter. Questa è una sintesi, una tabella molto sintetica dell'andamento delle resistenze antibiotiche in Toscana. Io qui abbiamo riportato i dati dal 2019, 2018, 2017 in Toscana a confronto con i dati italiani e europei e poi abbiamo preso a riferimento il dato francese e tedesco fonte CDC per il 2018. I colori che vedete rappresentati si rifanno alle scale di colore che propone le CDC che vanno essenzialmente da un azzurro chiaro per valori dell'antibiotico resistenza, anzi un verde inferiore a 1, azzurro chiaro tra 1 e 5 e così via fino a un rosso molto scuro nel caso di antibiotico resistenze superiori al 75%. Diciamo che a colpo doppio questa tabella fa capire come anche se ci sono dei cambiamenti negli anni comunque ancora la situazione della Toscana resta in linea con quella dell'Italia e comunque mostra livelli di resistenza agli antibiotici alti e di certo superiore a quelli di altre nazioni europee. In particolare volevo sottolineare tre aspetti una diminuzione che abbiamo osservato negli MRSA e un attimo ecco negli MRSA c'è stata una diminuzione appunto siamo passati da un 30% nel 2018 a un 26% nel 2019 la cosa positiva è che questa diminuzione ha riguardato tutte le aree vaste quindi in quasi tutti i laboratori monitorati si è osservata questa diminuzione delle resistenze permangono delle differenze a livello di aree vaste con delle zone con valori ancora più alti però abbiamo osservato questo trend in miglioramento. la resistenza ai carbapenemi nella Klebsiella dopo una netta diminuzione al 29% nel 2018 è risalita al 33% nel 2019 la cosa interessante è che il dato positivo del 2018 era principalmente imputabile a una ampia riduzione nell'area vasta nord-ovest che è stata poi il teatro della diffusione dell'outbreak di NDM quindi è grazie 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 ora mi sentite? scusatemi non so cosa fosse successo era andato via il mio audio ok riprendo dicevo c'è stato questo aumento di nuovo delle carbapenemi nel 2019 quindi una ripresa proprio nella zona nord-ovest che era stato teatro di una grande diminuzione nel 2018 un altro dato che così vi volevo far vedere rapidamente è stata la diminuzione della resistenza alla vancopicina nell'enterococco fecium che è stata tra il 2018 e il 2019 è stata principalmente osservata nelle aree vaste centro e sud-est quindi negli ospedali dell'area vasta centro e sud-est e che ha riportato la Toscana a valori di resistenza intorno al 15% quindi in linea perlomeno con quelli italiani e quelli europei e questo appunto 881 ho sentito una voce ultima cosa che vi volevo far vedere ora io qui non lo faccio vedere per motivi di tempo nel documento e anche nelle slide allegate trovate i dati di resistenza anche negli urinoculture quindi negli risultati da urine e questo c'è anche dal 2018 appunto anche per le urine la specie sorvegliate sono quelle riportate di seguito la più diffusa resta l'escherichia coli tra i gram positivi la più frequente è l'enterococcus fecalis e quindi nel documento ritroverete anche tutti i profili di resistenza nelle urinoculture rapidamente tutti questi dati sono da oggi disponibili sul portale dedicato alle infezioni dell'ARS infezione obiettivo 0 in alto a destra trovate un pulsante atlante che vi rimanda a questo portale dove essenzialmente trovate i dati che vi ho fatto vedere molto di più e che è stato un gran lavoro appunto fatto qui in agenzia ringrazio i miei colleghi sia dell'osservatorio che i colleghi che si occupano proprio dello sviluppo dei portali che in questi mesi hanno lavorato appunto a completare quest'opera e vi invito anche a consultare il sito infezione obiettivo 0 dove riportiamo è un portale che diffonde le conoscenze sul contrasto alle infezioni sono riportati vari articoli anche in questo periodo abbiamo riportato vari contributi legati al tema ai temi più attuali vedi appunto covid e quindi vi invito a andare a vedere a consultare e anche a contattarci se pensate di avere delle proposte di aggiornamenti di articoli di contributi per il nostro giornale mi dispiace appunto di aver fatto vedere così rapidamente tutta questa molla di informazioni però l'invito è andarlo a vedere e poi eventualmente contattarci per approfondimenti dubbi o domande io vi ringrazio subentro un attimo come moderatore per far prendere fiato a Silvia Forni che è sulla sbreccia dall'inizio del webinar io sono Fabrizio Gemmi per chi non mi conosce e approfitto di quest'attimo per porre una domanda al professor Rossolini che è posta dal dottor Terezzi che è un infettivologo di Pistoia credo che è molto attivo nel porre delle domande e che in qualche maniera appunto poi dovremo dare la risposta anche in privato a quelle che non riusciamo a rispondere adesso la domanda è lui è interessato alla dosazione nei pronto soccorso di tutti gli ospedali anche riferita all'area valli